Sono arrivati i NOX e devo dare un pubblico elogio alla dirigente dei NOX e a tutti i due, ai componenti, un gruppo che è qui pervenuto sollecitamente perché devo il mio elogio, il mio complimento, sentite ai NOX, perché pur essendo consapevole di quell'articolo 53, dicevo poco fa, cioè l'uso legittimo delle armi e anche di altre cause di giustificazione che possono intervenire in questi casi, tuttavia io ho raccomandato, ho dato proprio disposizione in questo senso, zero assoluto, anzi ho usato il termine, se ne ricorderà il dottor Zendo e anche il dirigente dei NOX, zero Fahrenheit di rischio per la incolumità personale sia del sequestratore sia del sequestratore, pur essendo consapevole che anche per il reato di sequestro di persone semplice, vi è la possibilità di, con i presupposti dell'uso delle armi. E la grandissima professionalità dimostrata dai NOX perché hanno saputo, e anche dagli altri ma in particolare, hanno saputo tenere i nervi saldi al solito ma soprattutto con equilibrio pur essendo veramente la loro attività strettamente operativa e quindi essendo proprio in modo distinto, portati all'operazione veloce, immediata, efficace, hanno atteso dalle tre, lo stesso si sono calati nella situazione e in questo modo di operare in modo molto tranquillo, in modo molto, come dire, la situazione sotto controllo nonostante un momento particolare di agitazione allorché si era veramente tenuto che si, e naturalmente si era pronti anche per questa evenienza, allorché una piccola escoriazione è stata procurata dal sequestratore a se stesso e poi si è accennato pure alla vita. Dicevo, ciò nonostante si è agito in questo modo e si è agito con grande abilità, con grande professionalità, con personale e equilibrio scegliendo tempestivamente il momento opportuno per la liberazione. Come avete visto la ragazza è uscita? È uscita, mi pare, in un modo assolutamente in cura. Prego la precisa, mi scusi. Una domanda non... Dopo? Non eppure dopo, perché non rispondo alle domande, lo sapete già poi dopo, vedete quale forza del mondo. Devo ringraziare, alla fine, oltre a tutti quelli che hanno operato i miei colleghi, ma soprattutto le forze dell'ordine, ripeto, i carabinieri, forze di polizia, la finanza e naturalmente parlavo prima dei Nox e della squadra mobile e del commissariato. Devo ringraziare tutta la collettività di Luce per la seconda volta, compostamente, ha avuto fiducia nell'opera e, a proposito di nervi, nei nervi saldi di chi era alle prese con un caso abbastanza difficile, come avete inteso, anche per la dislocazione delle persone che dovevamo arrestare e soprattutto liberali.